Cari figli, come madre sono felice di essere in mezzo a voi, perché desidero parlarvi nuovamente delle parole di mio figlio e del suo amore. Spero che mi accoglierete col cuore, perché le parole di mio figlio ed il suo amore sono l'unica luce e speranza nella tenebra del momento attuale. Questa è l'unica verità, e voi che la accoglierete e la vivrete avrete cuori puri e umili. Mio figlio ama i puri e gli umili. I cuori puri ed umili ridanno vita alle parole di mio figlio. Le vivono, le diffondono e fanno in modo che tutti le odano. Le parole di mio figlio ridanno la vita a coloro che le ascoltano. Le parole di mio figlio riportano l'amore e la speranza. Perciò, miei cari apostoli, figli miei, vivete le parole di mio figlio. Amatevi come lui vi ha amato, amatevi nel suo nome e in memoria di lui. La Chiesa progredisce e cresce grazie a coloro che ascoltano le parole di mio figlio, grazie a coloro che amano, grazie a coloro che patiscono e soffrono in silenzio e nella speranza della redenzione definitiva. Perciò, miei cari figli, le parole di mio figlio ed il suo amore siano il primo e l'ultimo pensiero della vostra giornata. Vi ringrazio.